La video news oggi sarà in diretta streaming alle ore 12.30, 6 giugno ore 12.30 diretta streaming per incontrare dal vivo le speaker delle nostre edizioni news. Un autorevole docuvideo oggi sulla home page del sito dove il professor Croce, uno dei docenti del percorso formativo dopo di noi, ci spiegherà in tre minuti il concetto di accomodamento ragionevole contenuto nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.